L'Unica Reparto Corsa è un progetto nato nel 2005 del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Università della Calabria. Lo scopo di questo progetto è quello di formare gli studenti di ingegneria e non solo. Noi siamo tutti studenti, siamo circa 60 studenti e progettiamo e realizziamo una vettura da competizione di Formula SAE, quindi una vettura di tipo Formula a ruote scoperte. Noi siamo un team vero e proprio, quindi ci gestiamo sotto l'aspetto non solo della progettazione e realizzazione, ma anche sotto l'aspetto del marketing, del business e della comunicazione. La Ferrari che c'è sotto è una vostra creatura? Sì, quella piccola Ferrari in miniatura è stata interamente progettata e realizzata da noi studenti dell'Università. Tutta si parte a settembre con l'inizio della progettazione, per poi arrivare a fine giugno con la vettura bella e pronta per la competizione che si terrà a Varano dei Melagari in provincia di Parma. Questa è una competizione internazionale che vede coinvolte università da tutto il mondo. Nel ranking sono circa 550 e noi come Università della Calabria ci siamo attestati in questa classifica all'86esimo posto. Non solo nelle prime 100 al mondo, ma siamo anche tra le prime tre in Italia. Quindi possiamo dire che in Calabria macchine belle e veloci si possono costruire. È un bel messaggio anche per i giovani che sono qui presenti oggi. Sì, assolutamente. È uno dei motivi di orgoglio dell'Università stessa, che invita i giovani stessi a iscriversi all'Università per proseguire gli studi. Poi un progetto come questo apre enormi strade sulla via lavorativa, perché molti dei colleghi che hanno fatto parte del team subito dopo la laurea hanno trovato un posto di lavoro in note case automobilistiche, quali Ferrari, Maserati e altri ancora.